a Milano, no? Insomma, mentre stava lì che si diceva si fasceva le fiamme, si fasceva le fiamme, tutta un tratto la cassa di U.A. ha fatto. Vum! Mi scherzano arrivati i pompieri a spengere l'estintore. E allora è nato questo pezzo lì. Vieni, generale, vieni! Vum, vum! Accendilo, ecco, l'ho acceso. Montale, bella roba. Una situazione grande stasera. Come famiglia, aspetta, aspetta che devo sbrigliare. Aspetta, aspetta. Allora, vai, vai, adesso siamo. No, momenti scena, come diceva. Presto, 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 presto! Ehi! Presto, date la lente a pompieri, stasera nella danz con l'igeno e il maquam. Prendete gli estintori, preparateli da chi c'è pericolo, che c'è dio se c'è mago o culam. Presto, date la lente a pompieri, la stima allerta per chi è nella danz. Ti spazzano del brutto che pizzi a fuoco tutto. Prendete gli estintori che c'è, ce ne fa qua. Ma qua nel meccanico del re che pistoiese, attenti che distendono se dalle prime riprese. Anche ricanate, proprio non le sopporto, che ce ne fa qua. E con la faccia, non camminare in sera, il raggio non ci va. Se vuoi sentire racca, devi venire qua. Ho qualche testo così, e li ve le percora. E se non c'è una faccia, ripeto. Allora, quando arriva il generale, dello stile di Orentino, tutti quanti si alzano per fare il casino. Veterano, vibrante, dice culturali, non si tira mai dietro le pene e le fasi. Se per caso non sapessi che cos'è la vecchia squadra, non ti dicevole vai, e da quando cominciai. Se per caso non c'assessi una pizza a passare, più o meno caffè, e più marijuana. Presto, date la lente a pompieri, la stima allerta per chi è nella danza. Anzi, li spaccano di brutta pupilla, fanno tutto per prendersi gli occhi. Soi che c'è gene, Marquan. Questa è quando tutto questo, questo è cominciato. Io guardavo a banca e gene, c'è sempre strato. Se sapete di una casa scritta, di cosa è tanto da occupare. Marquan è sempre pronto a tutti i tifosi, vieni via. E tu che mi azioni, vuoi fare la fotografia. E fatto così, non li calma la fedica. E tu, soprattutto, neanche lui, neanche la dominina. E lui c'avevo un amico che tutti lo chiamavano pupilla. E non ci viene a fisciare, non ci viene a fisciare. Il mio frattere non ci viene a fisciare. Presto, date la lente a pompieri, tutta sera nella danza con il gene Marquan. Prendete gli scrittori, guardate gli brancchi, c'è un pericolo di scendere se c'è un altro tourà. Presto, date la lente a pompieri, ma si va a letta per chi è nella danza. Mi spaccano di brutta pupilla, fanno tutto per prendersi gli scrittori che c'è gene, Marquan. Ehi, mister general, vieni, sai. Qui ci vuole un po' con i free freestyle. A Montale gli piace molto l'hotel. E c'è, a pomo, tutti i ragazzi già guai. Tieni, generale, vieni, vieni, vieni. Fiorentino, mi faccio un po' di improvvisazione per me. Grazie, Montale, Montale, Montale. Mi piace tanto essere qui stasera, sai. Perché a Montale io ci ho fatto in servizio civile. 25 anni fa, e io sono arrivato qua, ho detto ma che fa, non è niente come era 25 anni fa. Non mi ricordo neanche di una cosa che si sta qua. Ma poi sono andato qui e veste con me. Eh sì, solo pensavate ottimi senza che era ancora così. Oh sì, però qualcuno di voi 25 anni fa mi sa che non era nato in sala. E allora il genere vi dice, benvenuti a Montale, qua stasera con il generale. Presto, date l'allezza ai compieri, stasera nella danza con il generale Marquan. Prendete gli attitori, preparateli d'anti, c'è pericolo di cedio se c'è un'altra mula. Presto, date l'allezza ai compieri, stasera nella stanza con il generale Marquan. Qui spaccano di brutto, piglia a fuoco e tutto, prendete gli estitori che c'è il generale Marquan. Presto, date l'allezza ai compieri. Presto, date l'allezza ai compieri, presto, date l'allezza ai compieri. Presto, date l'allezza ai compieri, presto, date l'allezza ai compieri. Io, Montale! Grazie di brutto! Bella roba, piganza, roba uno, via. Allora, va avanti io, va avanti io. Vai mister genere! All right! Ci sono!